Lunedì 21 maggio 13.50 ben ritrovati con Infostudio. 21 persone arrestate tra esse anche un ex magistrato e due avvocati che facevano capo in pratica ad un'associazione che a sua volta era, come dire, i cui fili erano tenuti da un imprenditore di origine calabrese residente però in Brianza che aveva architettato un sistema di commissione di truffe, di reati tributari. Poi questo sistema ha fatto dire al magistrato che ha tenuto questa mattina la conferenza stampa in procura a Monza che questo genere di reati rovina il paese, rovina il sistema Italia. Sono, ripeto, 21 le persone arrestate per reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, al trasferimento fraudolento di valori, al riciclaggio e dalla corruzione. Dieci sono finiti in carcere di questi 21 e tra loro c'è anche l'ex magistrato Gerardo Perrillo che era in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Monza. L'inchiesta è stata denominata Domus Aurea e ha portato allo smantellamento di un gruppo di società riconducibili a Giuseppe Malaspina, residente, come ho detto, in Brianza. Ed è nata questa inchiesta da un esposto presentato da una lista d'opposizione di un comune della provincia di Monza che aveva denunciato presunti irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici portati a termini in modo non conforme al capitolato e le tangenti che sarebbero state pagate ad alcuni pubblici ufficiali. Malaspina è accusato di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 95 milioni di euro e di aver distratto patrimonio per 234 milioni di euro. Nell'operazione ci sono anche dei sequestri di beni. Guardate quest'opera, non so se possiamo tornare indietro, credo la rivedremo più avanti, perché tra i beni sequestrati c'è, eccolo. Vedete queste due mani? È un'opera dell'artista Lorenzo Quinn, si tratta di Support, che era installata fino a pochi giorni fa, è stata rimossa ai primi di maggio alla Biennale d'Arte di Venezia e che adesso è stata rimossa. Era all'esterno dell'hotel Cassagredo, che è uno dei beni sequestrati. Tra gli altri beni sequestrati anche lo stabile che ospitava l'hotel Gritti di Milano, a pochi metri dal Teatro alla Scala, e un maneggio ad oggiono nel Lecchesi, inchiesta che è stata coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Bellomo. Nelle oltre 1200 pagine d'ordinanza, nell'ambito di questa inchiesta, vi sono intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali emerge una smania di ricchezze e bramosia al di fuori dei limiti della decenza, scrivono i magistrati. Uno degli indagati, intercettato parlando della documentazione creata per i raggiri, ha detto tutto quello che abbiamo detto oggi è finto, una finta in più o in meno. L'importante è avere un pezzo di carta, gli risponde un altro. Guardate che qua bisogna fare uno sforzo di fantasia, ci vuole Walt Disney, dice durante una riunione un altro degli indagati. Proprio per paura di essere scoperti, alcuni degli indagati hanno anche cercato di far sparire interi fascicoli di documenti all'interno della sede operativa che era Vimercate, di questa società dell'imprenditore Malaspina, e con una ruspa stavano riempiendo un container di documenti per poi forse interrarlo nella stessa azienda. Questa azione è stata bloccata però dall'arrivo delle fiamme gialle. Parliamo invece adesso della confisca da parte della Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, a diamante di una lavanderia industriale che era nella disponibilità di Antonio Mandaliti, che era uno degli arrestati nell'operazione frontiera contro la cosca muto di Cetraro nel luglio del 2016, operazione che era stata coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Il decreto di confisca è stato emesso dal Tribunale di Cosenza e secondo il Tribunale la lavanderia è frutto o reimpiego di attività illecite, come ricavato anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, secondo i quali Mandaliti voleva imporre il monopolio dei servizi proprio grazie alla sua appartenenza alla cosca. Muto Mandaliti che è anche sottoposto per tre anni alla sorveglianza speciale. Dal 17, se non ricordo male, ma comunque il mese è sicuro, il giorno non ci giurerei, il mese è quello di ottobre del 2017, esiste un nuovo DCA per quanto riguarda il percorso diagnostico-terapeutico riferito alla sclerosi multipla. Malattia terribile, infida, maledetta e che colpisce anche molte persone giovani, anzi colpisce per lo più tra i 29 e i 50 anni e soprattutto le donne. Una malattia che è difficile anche riconoscere fino a quando purtroppo non si è manifestata anche perché ha un ampio spettro di sintomi. Per i malati e le loro famiglie c'è appunto questo nuovo decreto che migliora le condizioni di assistenza in genere e sul quale ci si è confrontati a Catanzaro, presso la cittadella regionale. Da sette mesi in Calabria l'assistenza ai malati di sclerosi multipla ha cambiato decisamente passo. Nello scorso ottobre è stato ridefinito il percorso assistenziale, garantendo la presa in carico dei pazienti, ora curati con un progetto personalizzato ed integrato, assicurando la tempestività della diagnosi ed il monitoraggio clinico. Sono alcuni degli aspetti emersi durante il confronto presso la cittadella regionale sul percorso diagnostico-terapeutico sulla sclerosi multipla, al quale hanno partecipato il commissario della Sanità Calabrese, dirigenti del Dipartimento Politiche Sanitarie e delle aziende sanitarie calabresi, responsabili dei centri di cura e delegati dell'AISM, l'Associazione per la lotta alla sclerosi multipla. L'Italia non è tra i paesi in cui la malattia si manifesta con maggiore frequenza, 113 casi ogni 100.000 abitanti, 1.800 nuovi casi all'anno e un totale di 68.000 malati. Ma le richieste di assistenza sono purtroppo in costante aumento anche nella nostra regione. E' dunque necessario aumentare gli stanziamenti di risorse. Il nuovo percorso, ha fatto notare la dirigente del Dipartimento regionale, Liriana Rizzo, offre una nuova linea di indirizzo ed è nato dall'esigenza di mettere il paziente al centro di tutto, tenendo anche conto delle difficoltà legate al fatto che l'attuale offerta del servizio sanitario prevede oneri anche a carico delle famiglie dei malati cronici. Ma il Decreto 140 migliora indubbiamente la situazione di chi lotta contro questa malattia, anche perché tende a costruire una rete specifica in attesa che la ricerca continui a fare passi in avanti per debellare questo multiforme spietato nemico del sistema nervoso centrale. Abbiamo dato proprio una linea di indirizzo su come deve essere organizzato e approntato un percorso assistenziale. Adesso tocca alle aziende dover, in coerenza con quanto è stato definito a livello regionale, costruire a livello dei singoli territori aziendali i percorsi assistenziali per i pazienti. In maniera dettagliata quindi devono fornire indicazioni ben precise su quella che è l'articolazione del percorso, su quello che è l'obiettivo da raggiungere e soprattutto su quelli che sono i professionisti che devono accompagnare e che devono prendere in carico e accompagnare i pazienti in tutte le fasi della malattia a partire dalla diagnosi, dal primo momento della diagnosi fino alla continuità al proprio territorio e quindi al proprio domicilio, perché sono pazienti, queste persone che hanno bisogno di essere informati, hanno bisogno di sapere chi è che fornisce loro delle prestazioni, hanno bisogno di avere anche una risposta nel proprio territorio, perché hanno bisogno spesso anche di cure domiciliari, di cure palliative e quindi hanno bisogno di risposte precise da parte del servizio sanitario regionale. Il nuovo percorso assistenziale sulla sclerosi multipla, ha affermato il commissario per il piano di rientro della sanità calabrese, Massimo Scura, dimostra che in Calabria si possono ottenere risultati positivi e migliorare la qualità delle prestazioni, unendo gli sforzi e ripartendo dai territori. La cosa più importante vista dal mio punto di vista, che non è quello specificatamente clinico, è che si mettono insieme le persone. Le persone che si mettono insieme tirano fuori delle soluzioni che essendo condivise, primo, essendo frutto di una multidisciplinarità, essendo frutto di una pluriprofessionalità, non possono che essere l'ottimale per il paziente. Questo non è l'unico, noi abbiamo infinità di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che piano piano stanno avendo una completezza, diciamo, normativa. Adesso gli operatori, come ho detto poco fa, si devono far carico del come realizzare con esattezza ogni cosa. L'epoca per cui ognuno deve aspettare che un altro gli dica che cosa deve fare, è finita da tempo. Ogni tre ore una persona scopre di avere la sclerosi multipla. Tu non restare a guardare. Smuoviti. Aiutaci a fermare la sclerosi multipla. Aiutaci a non fermarci. Dona ora su smuoviti.aisb.it AISB. Da 50 anni la sclerosi multipla non ci ferma. Circa un anno fa le sue proteste sono famose e sono anche tra le più serie e coerenti perché le porta fino in fondo. Un anno fa era andato avanti a sigarette e a caffè, così aveva promesso, ed acqua, che non è il massimo della vita. Già per una persona sana, figuriamoci per un uomo di mezza età, poco più che mezza età non si offenderà, insomma, e che ha anche qualche malattia cronica purtroppo. Grazioso Manno, il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, ha annunciato che tornerà a protestare, ad incatenarsi, per la precisione, dal 13 luglio a Catanzaro davanti alla sede della Regione, se non cesserà la situazione di stallo e di disattenzione, così la definita, verso il mondo consortile da parte della Regione stessa. E le immagini che state vedendo si riferiscono a un periodo precedente, lo sciopero delle fame, e riferito a un'altra delle proteste proprio davanti alla cittadella che il dirigente ha attuato. Manno ha scritto una lettera al presidente Olivero, l'ha inviata anche agli assessori, ai consiglieri regionali, all'Ambi nazionale e calabrese, alle organizzazioni agricole, ai sindacati, ai sindaci dei comuni, e sono 56 del comprensorio di concertile, e ai consorzi di Bonifica, nella quale sottolinea che l'attenzione verso il mondo consortile è pari a zero. Manno fa presente che i consorzi vivono un momento particolarmente difficile, dal momento dell'insediamento della giunta Oliverio, eppure, dice, sono enti che hanno un'importanza fondamentale e strategica per gli agricoltori e il territorio, che svolgono un ruolo estremamente necessario per quanto riguarda l'irrigazione, la difesa del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico. Purtroppo deve amaramente constatare che al di là di piccoli finanziamenti, vane promesse e belle parole, ha detto Manno, Oliverio e Regione sono stati insensibili alle numerose richieste fatte in questi anni, eppure abbiamo nel tempo proposto non interventi a pioggia che non risolvono, ma idee e progetti seri che vanno nella direzione di una soluzione sostenibile dei problemi che affliggono la Calabria. Nessuna risposta concreta è seguita alle tante promesse fatte ai tre incontri col Presidente Oliverio. Da tre anni non si possono assumere operai per mancanza di fondi. Fino a oggi ho attuato tutte le proteste possibili e pacifiche per richiamare l'attenzione, ma al di là di piccoli e insignificanti segnali che non sono assolutamente serviti a risolvere i problemi sollevati, nulla di concreto si è mosso. Questa volta però non mi accontenterò di semplici promesse, ma chiederò impegni scritti ed atti deliberativi, dice il Presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. Di lui ormai tutta Italia sa molto, non tutto, ma molto. Compirà 40 anni a novembre, è nato a merito portosalvo, è vissuto in una baraccopoli ad archi di Reggio Calabria, aveva un tetto di lamiera sul quale sentiva la pioggia che gli sembravano applausi, ha avuto una vita non facile, ha fatto mille mestieri, ha fatto di tutto. Poi è andato a Roma a seguito del fratello e lì è cominciata un'avventura che è stata coronata sabato sera dal premio al miglior attore al Festival di Cannes. Marcello Fonte è sicuramente, io mi spingo a dire, siamo a maggio, però penso che sarà il calabrese del 2018, insomma, non difficile che gli portino via questo titolo perché il suo nome è entrato nel palmarès del quale fanno parte Jack Nicholson, Marlon Brando, Jack Lemmon, Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Sean Penn, Tim Robbins, l'anno scorso ha vinto Joaquin Phoenix e vi ricordo che ci sono tra i nomi dei dieci italiani, uno l'ha vinto due volte per la verità, il premio che hanno vinto, qui tenta di alzare improbabilmente Edoardo Pesce che è l'altro attore non protagonista del film Dogman che nelle sale da quattro giorni e che è stato il più applaudito. Questo è il momento in cui finisce la proiezione e si scatenano dieci minuti di applausi per il film di Matteo Garrone. Dicevo che fra gli italiani che hanno vinto il premio per il miglior attore al Festival di Cannes ci sono Saro Urzi, Marcello Mastroianni che l'ha vinto due volte, Riccardo Cucciolla per Sacco e Vanzetti, Giancarlo Vannini, Vittorio Casman che l'ha vinto per Profumo di Donna, Ugo Tognazzi, Gian Maria Volontè, Elio Germano che l'ha vinto poco più di dieci anni fa, è stato l'ultimo e appunto adesso l'attore calabrese che il premio l'ha ricevuto dalle mani di Roberto Benigni, attore per caso si è detto. Garrone lo ha paragonato per la sua comicità leggera a Buster Keaton, era il custode del centro sociale romano Nuovo Cinema Palazzo e un giorno ha raccontato il regista durante le prove di uno spettacolo con ex detenuti, uno di questi è morto all'improvviso, Marcello sapeva la parte a memoria e lo ha sostituito, quando il mio responsabile casting è andato a vedere lo spettacolo per scegliere un po' di attori da provinare lo ha trovato ed è strepitoso, è stato Sarto in bianchino detto barbiere, comparsa, è stato anche pensate sul set di Gangs of New York di Martin Scorsese che in parte è stato girato anche a Cinecittà, ho capito scozzese dice lui, cioè il cognome lo ha travisato in scozzese e ha fatto una foto con Leonardo Di Caprio sul set di Gangs of New York, sapete a chi ha chiesto di fargli la foto senza sapere chi fosse? A Daniel De Lewis che ha rischiato di trovarsi accanto nel party a Cannes nella notte tra sabato e domenica, vi ricordo che Marcello Fonte è uno dei due italiani che hanno vinto, l'altra è stata Alice Rohr Wacker che ha vinto per la sceneggiatura di Lazzaro Felice, in complimenti naturalmente siamo orgogliosi anche di questa vittoria calabrese, non si può dire invece di essere orgogliosi e non è stata una vittoria calabrese l'esito del campionato di Serie A di Calcio, il Crotone perde a Napoli, retrocede, sarebbe retrocesso anche se avesse vinto visto come sono andate le partite, visto che tutte le dirette concorrenti hanno vinto come è accaduto nelle ultime giornate, si era salvato il 28 maggio 2017 all'ultima giornata e all'ultimo respiro il Crotone, forse la buona sorte dell'anno scorso la paga quest'anno, l'anno scorso giocò indubitabilmente peggio di quest'anno, quest'anno avrebbe meritato indubitabilmente più dell'anno scorso la salvezza, ma il calcio purtroppo sa essere spietato e quest'anno va così, il presidente Vrenna dice ci riproveremo e ci riproveremo subito a partire dai prossimi giorni quando si inizierà a pianificare la prossima stagione e c'è da pianificare quest'anno, probabile l'addio di Zenga, molto probabili addi anche tra i calciatori, anzi sicuri molti addi tra i calciatori, ci sarà da preparare una squadra che sia attagliata al campionato cadetto, Crotone che retrocede con Verona e Benevento, le parole e anche l'emozione di Walter Zenga nella pancia del San Paolo. Retrocedere fa male, poi fa più male anche per questa gente, perché alla fine sono stati loro che davano la forza a noi di tirarci su e fa male perché Crotone non merita di andare giù, per quello che ha fatto vedere nelle giorni di ritorno, per come abbiamo sempre giocato, per come abbiamo sempre lottato in ogni partita, però non è bastato perché c'è stato qualcuno più bravo di noi e nello sport a mio avviso bisogna sempre riconoscere anche i meriti di chi vince e bisogna accettare le sconfitte. Accettare una sfida ti porta anche a sapere che questa sfida può essere non col risultato previsto, vado giù con la morte nel cuore proprio perché in questi cinque mesi ho trovato della gente speciale e mi sarebbe piaciuto poter dare di più e fare quei tre punti in più che potessero permettere a loro l'anno prossimo di restare ancora in Serie A e questo è il mio dispiacere più grande. E se alla fine Cagliari, Spalchi, Evo, Udinese hanno vinto due o tre partite di fila, saranno stati bravi loro. Io ho avuto un calendario leggermente più complicato, un filino più complicato perché non credo che giocare a Napoli sia semplice per nessuna squadra al mondo, specialmente poi all'ultima di campionato dove c'è una grande festa, dove ci sono giocatori che hanno fatto più di 90 punti e quindi magari a calendario invertito oggi ero felice e contento, invece sono infinitamente triste per la città di Crotone, per tutto quello che abbiamo creato in questi cinque mesi. In questi cinque mesi Crotone mi ha ridato il senso della vita, la gioia di vivere, la gioia di fare allenatore ed è per questo, fa ancora più male proprio per questo, perché se ci fosse stato un rapporto un po' più assettico magari era un po' più distaccato, ma così fa veramente male, giuro. Abbiamo fatto delle partite importantissime e ti resta un'ammarezza profonda perché quando vivi una città come l'ho vissuta io a 360 gradi diventa complicato poi accettare qualsiasi risultato, anche se ripeto lo sport è questo e devi essere bravo ad accettare e a fare i complimenti agli altri. Questa è una giornata brutta, però niente, abbiamo la forza di rialzarci le maniche e ricominciare già da subito. Voglio fare un applauso ai tifosi, voglio ringraziarli per la motorità che hanno dimostrato in questi anni e soprattutto dopo una sconfitta così coce, hanno avuto la forza di dare coraggio ai ragazzi, per cui voglio ringraziarli e promettogli che già dall'anno prossimo ce la metteremo tutta per poter provare a risalire. Adesso è troppo presto, vedremo in settimana, prendiamo 3-4 giorni di riposo e poi vedremo da fare. Ti dispiace non aver potuto regolare ai tifosi, alla città di Grottoni nel terzo anno di Serie A ma niente, ripartiremo. Il grammatico su alcune partite che potevi chiuderla, avrei la possibilità a più riprese di poter chiudere il campionato e ci siamo riusciti, peccato. Però voglio dire il più bel ricordo del pareggio con la Juve e lì è dire la verità. Poi quando abbiamo vinto lì a Udini io ci credevo tantissimo nella salvezza, peccato. I campionati sono le stagioni regolari, praticamente si avviano, credo forse siano già quasi tutte concluse di sicuro nelle prime tre serie, adesso inizia la sciarata dei play-off e play-out, nei play-off è impegnato il Cosenza che ha battuto il Trapani dopo aver fatto il suo dovere nel primo turno, ha battuto il Trapani per 2-1, adesso si avvia a difendere nella gara di ritorno in Sicilia questo vantaggio, esiguo ma comunque vantaggio. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale che torna come ogni giorno alle 19.10 e dopo ogni edizione, adesso subito dopo la sigla e la pubblicità come pure stasera dopo l'edizione delle 19.10, torna anche l'Italia del Sud di Domenico Milani. Grazie per averci seguito, a più tardi.